Mi piacerebbe avere le parole, Presidente, e invece non le ho. Abbiamo appreso questa mattina della tragica scomparsa nella notte a Istanbul della pallavolista diciottenne Giulia Ituma, una ragazza che era partita da un oratorio, San Filippo Neri, a Milano. Era arrivata a difendere la maglia azzurra con la trafila del Club Italia nei nazionali giovanili. Era stata nominata miglior giocatrice all'ultimo europeo Under-19 femminile, vinto, grazie anche a lei. Era una speranza per la pallavolo italiana. È difficile parlare di speranza in questo momento. Credo che sia meglio il silenzio di fronte alla tragedia di una ragazza di 18 anni che non c'è più. E questa assenza credo che ci debba interrogare. Mi limito allora al cordoglio per questo dolore inaudito. E voglio soltanto portare il mio abbraccio e la mia vicinanza, e sono sicuro la vicinanza di tutto questo Parlamento, alla famiglia, al Club di Novara dove giocava e ieri sera aveva disputato la sua ultima partita nella semifinale di Champions League, alla Federazione Italiana Pallavolo e a tutta la comunità sportiva del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. La Presidenza si associa alle sue parole ed esprime il cordoglio per la scomparsa dell'atleta. Grazie.